Beh, sono dei cararmati, io non pensavo, a parte vabbè io sono via alle 5 e mezza stamattina quindi forse sono un po' giù di tono però loro sono eccitatissimi e questa energia è pazzesca, è stupenda per il nostro ego Per il tuo, no sto scherzando tutti abbiamo No vabbè io ero già stata qui quindi sapevo a cosa andavo incontro e sì loro ti caricano, sono pieni d'energia